Buongiorno. La campagna che loro hanno fatto con tanti altri ragazzi e persone di SAVE che vuole far volare ragazzi e infanzia d'Italia per il prossimo futuro, quindi il simbolo è stato questo aeroplanino. Poi ci sono state 550 organizzazioni sul territorio che hanno seguito la nostra strada, si sono alleate con noi e hanno fatto un grande movimento. Non si piega per lanciare. Lo devi lanciare così. C'è anche una punta bella rigida. Mi riconosco. Bravi. Grazie.